M'è Callan? Sì? Sono io, sei pronto per me? Da quanti anni sono qui? Da cinque anni No, non bastano Ma quanto tempo dobbiamo ancora aspettare? C'è un solo whisky di malto che riposa ancora in botti da sherry per almeno sette anni Prima di incontrare una bottiglia M'è Callan? Sì? No, niente M'è Callan, il gusto di saper aspettare